Oh, Bremer, occhio, eh! No, Bremer! Mamma mia, Bremer, qua ha fatto un errore madonna alla matita rossa E vediamo perché protesta Vediamo se non ha toccato più on-tech Eeeh, ragazzi Eeeh, non lo so, eh Si gioca Minchia Mi è sembrato che ci fu... Anche a me il contatto mi è sembrato evidente Leggero, ma evidente Mo' ne resta in Juve, ragazzi Cinque minuti di buon atteggiamento Però questo era fallo su Miretti No, forse no No, 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 forse non era fallo Miretti Miretti Ancora Miretti Ancora Miretti Ancora Miretti Bravo Fabione Buon giro palla della Juve fino adesso La Salarintana pressa comunque, ragazzi Aspetta mica tanto Ancora lui, eh, no Però arriva Miretti Che cazzo è Miretti? Stiamo pressando benissimo Bravo, ancora Miretti Che cazzo è il più forte di tutti questo? Il più forte di tutti Cazzo, compro la maglia Paredes in verticale E Mekenni si fa trovare male Ma Paredes ancora Poi dentro Mekenni, Mekenni sveglia Miretti Eh, siamo spesso dalle parti della Salarintana, ragazzi In questi primi 9-10 minuti Miretti sulla tre quarti Ancora Miretti Bella palla per Vlaovic Allarga per Kostic Sul mancino La mette No dai, penso un quarto d'ora ha fatto bene della Juve Primi 14 minuti fatti veramente bene C'è mancato il gol Gatti ragazzi clamoroso Perché è stato l'unico a Parigi A fermarsi A venire a salutare noi tifosi Prima di salire sul Puma L'unico L'altro è stato a Quadrado Ma è venuto perché doveva consegnare la maglia A una persona che conosceva Penso a un'altra colombiana Ed è stato lì a fare le foto Ma Gatti è stato l'unico a venire Perché gli abbiamo chiamati tutti E Gatti è stato l'unico a venire Quindi veramente Per il micio Un grande applauso No ragazzi Eh, mamma mia Eh, mamma mia Bravo Bremer E bravo Miretti Ma, eh Stiamo giocando bene In realtà Abbiamo fatto un quarto d'ora fatto bene Adesso stiamo Subendo la prima occasione della Salernitana Ah, certo che parte Miretti Anche perché ragazzi c'è No, no, no Mamma mia Quadrado Ma abbiamo preso gol da Candreva Abbiamo preso il gol dell'ex da Candreva Quadrado Santo il signore Quadrado Santo il signore Santo Dio Ma soprattutto capitalizza Pfff Ma cosa c'ha Quadrado? Che cosa c'ha Quadrado? Ditemi che cosa c'ha Quadrado Guarda che roba è E poi McKennie Si fa E poi Ma ragazzi Ma cosa faccia Le belle statuine in difesa Quadrado si fa saltare McKennie si fa saltare De Sciglio si fa saltare La palla che passa E poi c'è il tocco vincente Poca comunicazione Anche sul secondo palo Tra Tra Miretti Eh Miretti Poverino Un errore lo fa anche lui Mamma mia Un gol da film dell'orrore ragazzi abbiamo preso Un gol da film dell'orrore Film dell'orrore Lo so Nel Benfica parleremo da domani ma Per adesso siamo a abbastanza difficoltà anche qua Infatti io questa cosa non la capire Ma uno come Allegri Ma non lo vede che Quadrado Deve riposarsi Cioè Io quando ho visto Quadrado titolare Sono veramente rimasto male Anche ad Adabon Prima In live da lui Gli dicevo guarda Il grande punto non è tanto Fagioli Ma è Quadrado Ma Quadrado Bonucci ma dai Ma ora guardate Cioè Poca Ma è la sagra dello schifo È la sagra dello schifo Cosa fa Bonucci Cosa fa Paredes È la sagra dello schifo Ma guarda lì McKennie Ragazzi Mazzocchi Sembra Maradona In due Devono fare il palo Non lo teniamo Non teniamo in due Mazzocchi Non lo teniamo in due Sembra Maradona Compratelo adesso Mazzocchi Vi prego Comprate Mazzocchi Voglio che giochi lui Col Benfica Vassa a sinistra Comprate Mazzocchi Più vicino La salerintana Al 2-0 Più di quanto Noi all'1-1 Impossibile che l'unico Fino adesso che Che ha belato un po' di anima È Miretti Cioè il più giovane Quello meno esperbo Madonna Come Madonna Ken Ken Ti devi Che nervoso Che nervoso Andava meglio Sullo 0-0 Ma decisamente Meglio Sullo 0-0 Abbiamo preso Gole Sembra che Abbiamo perso Qualsiasi tipo Di capacità È come quando Gli alieni Space Jam Rubano il talento Uguale È Miretti Contro la salerintana Adesso cambio Scrivo Miretti Contro salerintana Tolgo la scritta Juventus Dushan Blaubic Ma si è alzata La bandiera No c'è il fuorigioco Eh sì Il fuorigioco Puttana vacca Ken dagliela Fai una cosa Dagliela dopo domani La palla Porca di una puttana Dagliela domani Facciamo così Alla fine della partita Gliela puoi dare alla fine della partita Con la palla Niente Continuiamo a lanciare Sta cazzo di palla Per McKennie E basta Ragazzi così non si va Da nessuna parte Non è Non è che Si va in Champions Se va male Così Non si va Da nessuna parte Bravo Blaubic Ti prego Metti la quadrado Metti la quadrado Ti prego La messa di merda La messa di merda Perché stava cadendo Stava inciampando La messa di merda Mi sa che l'ha presa di mano davvero Mi sa che l'abbiamo presa La messa di mano davvero Non riesco neanche ad arrabbiarmi Oh Sai che Bremer la prende di mano ragazzi Eh Figore Porca di una puttana Prego Mattia Ti prego Mattia Momento chiave Della partita 49-10 Lo conosci Ci hai giocato insieme al Genua No? Va col destro Fa 2 a 0 Dovete vergognarvi Ragazzi dovete Dovete vergognarvi E basta Dovete vergognarvi E basta 2 a 0 Della Saleritana È una vergogna È una vergogna È una vergogna Una vergogna Mi gira il cazzo due volte Mi gira il cazzo due volte Due volte mi gira il cazzo Due volte Permettetemelo Non le dico mai queste cose Non le dico mai Ma stavolta Le dico Per stavolta le dico Mi gira il cazzo due volte Perché la gente Che mi viene a dire Nei video Nei video Che ho rotto il cazzo Con questo pessimismo Che mi devo fidare E che devo essere positivo Se non vedo un cazzo di niente Se non vedo niente Perché devo essere positivo? Perché devo dire Delle cose che non penso? Ma lo vedete cosa siamo? Lo vedete cosa siamo? Mi gira il cazzo Della gente Che mi viene a dire Eh ma devi smetterla Di criticare Devi smetterla Perché qui la su e giù Non ho il cazzo critico Stiamo perdendo 2-0 A fine primo tempo Con la Salernitana Cosa devo dire? Bravi? Fantastici? Cosa devo fare? Un applauso Facciamo un applauso Alla Juventus Che sta perdendo 2-0 Con la Salernitana Diciamo che sono cose Che vanno bene allora Va tutto perfettamente Non le devo dire? Non le devo dire? I calciatori in campo Hanno delle grandissime colpe Perché Quadrado Perché Ken Perché McKennie Perché Paredes Perché Bremer Che sono quelli che Fino adesso Hanno fatto più schifo di tutti Lo stesso Kostic Questa roba qui Questa roba qui È colpa dei calciatori Perché ci sono loro in campo Questa roba è colpa dei calciatori Avo Kostic Mettila bene Ti prego Uno Sì Chi è? Chi è? Bremer Dai cazzo Dai cazzo Bravo Bremer Che non avevi giocato bene Fino adesso Che bel colpo di testa Dai avanti A centro campo Sto cazzo di pallone Muoversi a pareggiare Sto partita Perché? Io mi chiedo Perché questa voglia Questa grinta Questa garra Questa energia Questo nervoso Questo nervoso Questo nervoso Non ce l'abbiamo sempre Perché dobbiamo prendere dei cazzotti Prima di tirar fuori questa roba qui? Perché? Perché non ce l'abbiamo? Perché non continuiamo ad avercelo? Per quale motivo? Non riesco a capirlo Non riesco a capirlo Non riesco a capirlo Non me ne capacito Perché? 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 Per quale motivo? Sto partita la vinciamo in un solo modo Se loro si sbagliano Fanno un cambio in più Vinciamo 3-0 a tavolino Mamma mia Si non ciampa sul pallone da solo Quadrado Ciampa sul pallone da solo Ma come rigore? Ma come rigore? Ma su Alessandro? Ma su Alessandro? Si su Alessandro c'è il fallo Su Alessandro c'è il fallo Bonucci? Bonucci? Perché Bonucci? Parte Bonucci Va col destro Sepe Bonucci Fa 2-2 Dopo il testo di Sepe Bonucci ha trovato la coordinazione Per il 2-2 Faventia da Juve La scelta di tempo L'abbiamo vinta L'abbiamo vinta L'abbiamo vinta Non ci posso credere l'abbiamo vinta Non ci posso credere l'abbiamo vinta Non ho idea di come abbiamo vinto sta partita Arek Milik Arek Milik Arek Milik Arek Milik Non so come abbiamo vinto sta partita Non ho idea di come abbiamo vinto sta partita Milik è spulso Era già munito Perché si è tolto la maglia? VAR VAR Cos'è successo? Cos'è successo? Ma cosa cazzo è sta partita? Cosa cazzo è sta partita? Cosa sta succedendo? Per cosa il VAR? Offside su calcio d'angolo Ma offside su calcio d'angolo Cosa vuol dire? Vabbè ma chi se ne frega Ma non è fuorigioco attivo Ma dai ma non cambia niente Ma non puoi annullarlo questo eh Questo non puoi annullarlo Sì ma non la tocca Cioè non la tocca Non impedisce al portiere la visuale Non succede niente Fischiato fuorigioco Ha fischiato fuorigioco Ha fischiato fuorigioco Ma che partita è? Ma che partita è? Ma che partita è? Non sto capendo sta partita Sì ma è fuorigioco Ma non la tocca Bolucci Ma quanto dura ancora sta partita? Quanto dura ancora sta partita? Quanto dura? Quanto deve Quanto si gioca? Quanto si gioca? Finita 2-2 2-2 2-2 2-2 Ragazzi E... E... E...